Danilo Paduano, primo giorno di raduno, potremmo definirlo così, perché il raduno del Suio quest'anno è un raduno per far capire ai ragazzi che il Suio è una grande famiglia, però il primo giorno già si è seri, già si parla, già è partito il campionato secondo mister Pernice. Sì, il mister lo conosciamo, il mister è molto professionale, lo staff suo è una garanzia, quindi lavoro con lui da sempre, quindi ci conosciamo, so le sue metodologie, il suo pensiero, quindi per lui il campionato, anche per me, è cominciato oggi, quindi ringraziamo innanzitutto la società e il presidente che ci ha ospitato nella sua casa quest'oggi per fare il primo raduno, per conoscerci ancora meglio e quindi recuperare un pochino di tempo per la preparazione. Niente, quest'anno faremo sicuramente un campionato molto, molto tranquillo, abbiamo in Rosa tantissimi 2000-2001 della zona, fortunatamente, quindi cerchiamo di valorizzare, come già ripetuto nelle precedenti interviste, il nostro prodotto, quello dei giovani locali. Giustamente poi se col passare del tempo del campionato e magari qualche risultato positivo possiamo aspirare a qualcosa di più, benvenga, ma il nostro primario obiettivo è quello della salvezza. Una squadra costruita tra esperienza e gioventù, perché hai citato i tanti il 2001, ma anche la retroguardia non è da sottovalutare, perché ci sono tanti giocatori di esperienza. Sicuramente Luigi Franco e Mirko Zamparelli sono una garanzia per la categoria, anche perché sono ragazzi che hanno già giocato per diversi anni in coppia, quindi si conoscono perfettamente. Zamparelli era un obiettivo di mercato già da oltre, lo ho seguito da due o tre anni, quindi quest'anno finalmente siamo riusciti a portarlo a studio, grazie anche all'avvalo del presidente Vrola della Sessana, quale ringraziamo, ringrazio a nome del presidente Gianfranco Circio, della disponibilità che ci ha dimostrato nel corso del calciomercato, quindi siamo molto contenti di avere una figura come Mirko nel nostro organico. Sicuramente la loro esperienza servirà ai più giovani per crescere piano piano e magari fra 4-5 mesi avere i giocatori già pronti anche per l'anno prossimo sotto forma di under. Ripeto che noi abbiamo 3-4-2001 molto molto bravi, quindi aspettiamo di farli crescere con tranquillità, senza pressione, poi se magari dopo le prime battute si riescono già a ritenere abbastanza pronti siamo ancora più contenti. Tre amichevoli di lusso, potremmo definirle così, quelle che affronterà il studio quest'anno, perché ci sono squadre di Serie D ed eccellenza. Sì, anche questo sulla proclamazione ci siamo definiti un po' col mister, nel senso che il mister voleva fare subito amichevoli con squadre di categoria superiori, quindi ce l'abbiamo cercato di accontentarlo e vediamo un attimo di vedere da questi amichevoli l'aspetto sia caratteriale che tecnico della squadra, ma sono convinto che comunque da come l'abbiamo costruita di aver fatto un buon lavoro, poi sicuramente il campo ci dirà se abbiamo sbagliato qualcosa oppure magari abbiamo indovinato tutte le strategie di mercato, tutto qua. Domenico Lozmimmo, una preparazione che parte a razzo per questo studio. Si inizia il 6 settembre, ma praticamente subito preparazione, test e amichevoli. Sì, anche perché negli ultimi anni i ragazzi, se vedo solo su Facebook, stanno sempre a fare tornei di calcetto, quindi la preparazione loro, secondo me, già stanno al 50%, quindi a quel punto l'importante è amalgamare il gruppo, andare un po' sul discorso tecnico, con una base di preparazione c'abbiamo sul moschetto e sicuramente poi partiremo subito. Suio che ha uno staff tecnico che è uno e quattro, stasera mi è piaciuto sentire il mister Pernice che ha detto, con chi parlate parlate è come se parlate con me, perché siamo uno staff che lavora a braccetto, ma più che a braccetto e abbiamo tutti la stessa idea. Che idea è quella per il Suio quest'anno? Allora, giustamente come ha detto Gennaro, noi siamo amici, quindi essendo amici ci rispettiamo e quindi qualsiasi cosa diciamo è come l'avessimo detto tutti e quattro. Sicuramente noi partiamo come sempre, come due anni fa, sul lavoro, sul gruppo, sul dare il massimo in campo, poi i risultati secondo me li dà sempre il lavoro, quindi se riusciamo a lavorare bene, sicuramente ci siano dei risultati.